Allora, abbiamo qui con noi stasera Marco Franceschini per l'intervista al caldo del dopo partita. Marco, grande prestazione, 17 punti, ma grande prestazione di squadra. Mortara demolito, 95-79, una vendetta, aspettavamo l'anno passato Marco. Abbiamo già fatto una grande partita, tutti, vi ho dimostrato il canestro di Giovanni alla fine, che siamo nella bellissima scuola, è un gruppo unito, dobbiamo continuare così, ci vedremo grandi soddisfazioni. Benissimo Marco, ti ringrazio.